Dicevano che tutti gli stresiani erano sapevoli, erano consapevoli di questa storia, non lo so, è assurdo. Quelli che hanno detto che tutti quelli di Stresa sapevano quello che è successo, è una grande cavolata, perché gli stresiani non lo sapevano, per cui una cosa da smentire categoricamente. Le notizie ne escono di tutti i tipi, quindi per il momento direi lasciamo stare le notizie e vediamo cosa succederà dopo. Ci sono le indagini, ci saranno processi e quant'altro. Preferisco tenermi il parere per me, perché ho già sentito troppe voci positive e negative che non fanno bene al paese. Secondo me è stata una vergogna, perché sapendo che c'era il turismo e così, per un migliaio di euro potevano anche fermare l'impianto. E tanto non muore nessuno, anzi sono morti persone che non c'entravano niente. Io la funivia non la prendo più, guardi. Dopo questa cosa sicuramente la funivia non la prendo più. Non ho parole, non ho niente da dire, guardi, mi spiace, siamo tutti traumatizzati da questa cosa e come vedo poi la piazza è deserta adesso. Più che altro siamo distrutti, perché questa cosa ci pesa parecchio, cioè è una tragedia che pesa su tutta la comunità. Altro non posso dire, guardi, è una cosa che ci ha sconvolto a tutti.